Per chi frequenterà Teramo nei prossimi giorni ci saranno pesantissimi disagi alla viabilità. Parte infatti la prima tranche di interventi urgenti di asfaltatura su alcune arterie principali della città. Si inizierà con i ponti San Gabriele e San Ferdinando per continuare su Viale Crucioli, Via De Gasperi e Circonvallazione Spalato. Erano almeno dieci anni che la cittadinanza invocava il piano asfalti. L'assessore comunale Valdo di Bonaventura assicura che questa volta sarà la volta buona. Ma intanto direi che dopo dieci anni si torna a parlare di asfalti. È un dato importante. Sono dieci anni che sulla città di Teramo non si mette un metro di asfalti. Quindi al di là io non voglio sui ritardi che possono essere normali, fisiologici, quando si attiva una procedura. Con mille difficoltà abbiamo trovato risorse senza fare mutui, con piccole devoluzioni di mutui, che ha portato avanti, che ha impegnato l'amministrazione in maniera, soprattutto nel mio assessorato, in maniera importante. Quindi il periodo estivo si è stato ieri ai mille problemi nati dall'acquisizione di queste risorse. Quindi dopo dieci anni riparliamo di asfalti. Una bella notizia per la città che sicuramente in questi giorni poi creerà anche molti disagi. Si partirà da Ponte San Gabriele. Ovviamente interesserà anche l'area di Alcide di Casperi fino all'hotel Sporting. Quindi per poi trasferire i lavori su Viale Crucioli. Viale Crucioli lì converterà notevoli disagi. Quindi ci siamo attivati con l'impresa per lavorare affinché possa lavorare anche sabato e domenica in modo da, in quelle giornate, quindi di creare il meno disagio possibile ai cittadini. Ovviamente le zone interessate dagli asfalti saranno diverse. Poi ci sarà via del Castello, via Le Cavour, via del Castello, che sarà fatto quasi del tutto. Ci sarà un tratto, sarà interessato un tratto di via De Paulis, un tratto di via Referza. Sono trattiche veramente impercorribili. Diciamo che i grossi interventi sono questi.